Ciao a tutti e tutte! Benvenuti in questo nuovo video. Allora, questa qui è la Yoga Challenge che ho visto da fa, ho visto sul canale di tantissimi youtuber, quindi ho detto, perché non farla anche io con mia sorella Chiara? Ciao! Seguite la sul suo canale, si chiama Chiara, vi lascio il link in descrizione se ci riesco, insomma. Allora, con la partecipazione speciale di Tiago, abbiamo scelto 7 posizioni e iniziamo con la prima posizione. Questa qua? Sì. Tu guarda le gambe come le devi, tu devi stendere le tracce e le gambe devi stendere. E' vero? E' vero? Sei vero ancora? Non ti vedo, ma sono... E' vero, non ti vedo, ma... E' vero, non ti sova un po' prima. Aspetta! Un po' prima. Un po' prima. Un po' prima. E' vero come facevo? Un po' niente. Scusate se sentite questo rumore che però sono i cani. Mi spingi! Ok! Uno! Ehi! 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 Ahaha! Ehi! 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 non mi spingi se stiamo di su guarda la tua da me si riconcentra guarda come spingi su le mani le mani devi andare di sopra su le braccia devi andare di sopra su le braccia vai attesa le braccia metti le dure le braccia vai le braccia zitti è l'ultima volta se non ci facciamo fa niente l'abbiamo fatta non ce la faccio non ce la faccio si tronca noi non stiamo facendo va bene noi stiamo riuscite prima posizione siamo alla seconda aspetta questa è la prima non si ok la seconda posizione è questa vai vai senti lì oddio mi sto molto buono di poterà allora aspetta la faccio dai Yara oddio addio dai facciamo così allora una che si era da una parte e l'altra che si era da una parte dalle dai 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 è difficile un colpaccio come ci sono uscite perché vuoi sapere che era un'altra volta che facciamo queste posizioni è colpa di nostra sorella aspetta 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 ci vuole le mani lo facciamo vuoi dai lo facciamo aspetta senti le mani prendi le poste aspetta 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 questa gamba come si è facciamo proprio i piedi si quella è dai 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 prima l'abbiamo fatta ma tu eh prima l'abbiamo fatta è il primo video dai prima è il 5 una la seconda ooooh aaaaaaah 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 dai ci siamo usciti aaaaaah sani fantasmi chi la fa si la porta sola vai vai dai stai pronta vaccino di te o vaccino ariana ariana si deve piegare la schiena la schiena deve stare dritta deve stare appoggiata da mia non ti devi piegare davanti no no lascia così se si vede la schiena è appoggiata da mia non devi andare giù non devi andare giù metti la schiena bruciata la mia la schiena bruciata la mia portala e stai inizi a farti le braccia mie vai no no non ci vediamo aspetta no puttima sembra che il torticcione vai che bella roba mi trovi un canale di doppia ma non lo so non lo so che polpaccia vai la schiena dai la schiena dai la schiena dai la schiena è morta tu sei un po' mattisce l'ultima volta questa schiena vai oh mio dio aspetta guarda il bambino dai l'abbiamo fatta una due tre passiamo alla quarta posizione non lo so non lo so ma è quest'anno no tu mi ci devi mettere ci vediamo ci vediamo ci vediamo si dice vabbè vabbè tu stavi di là su stavi di là vai non lo so non lo so così si vai ah no sono con un spazio guarda lì come siamo breve facciamo uno due tre più a me dritte Chiara uno due tre stop facciamo sempre altre tre giorni più fatte ok passiamo alla quinta posizione vai vai di schiena di schiena ah vabbè uno due tre buttati sei a lei diventa più con la schiena no attravi un attimo tu vuoi guarda la destra devi andare niente se no non ci riesco a prenderti la schiena vai 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 no vediamo se mettiti direttamente da sopra già con le gambe così che non ci riesci e non ci riesci vai quella la la facciamo al contrario vai 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 intanto tu non ci riuscire mai ok no 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 tu non c'era mai a prendere un po' si ragazzi vai ah sei ma pesi 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 piccolo oggi no voile in chi la testa h oppure la std std la testa indietro la destra avvicinati vai la testa pure la testa ma vai la testa la testa devi andare in dietro mentre vai con però così vedi la brava vai pure la testa ahahah sei un pesce no basta dai 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 è l'ultima volta speriamo l'ultima volta ancora che so fare deficiente mi piace quando fare deficiente forza no via tu non ti arrugni tu puoi partire davanti come ritroviamo? come avanti? fate i ritorni voi siete sempre più avanti sempre più avanti vai vai bravissima bravissima non ho trovato un lato le gambe però guarda che mi si vada la schiena vai è che sei andato le gambe e non c'è più come braccia ecco qui benissimo la quinta quinta posizione quinta posizione quinta posizione vai eccoci qui metti il filo alè sono destra fuori non vuoi niente si non vuoi niente basta che puoi dire a destra il corpo vuoi venire più fuori pronta? no ti porti e arci la gamma vai no dai che ti ho fatto? guarda che il video vuoi che avviene vai facciamo così facciamo una una volta facciamo una volta anche se non ci riusciremo mai la volta hai perchè non sei stonta? metti la gamba vai scusami la coda non ci riesco grazie che hai fatto? quasi quasi facciamo il tipo chiara dove stai l'elastico mio? l'ho passato io gli appunti fai lei che dove stai l'elastico mio? dai che arrabigli asti ce le hai no l'altro dai sei capell Landesi, non facciamo più video dai è caldo solo dove? mi sono sbaglio dai 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 ti porti il ponte poi pagi il gomini e poi la sua mamma asala fai il ponte normale una volta non l so fa non stai fare deve stare fuori cosi è si vada per terra ok passiamo all'ultima all'ultima posizione aggrappate le braccia, le braccia, queste sono le mani, fatti le braccia, così, così, giuro non mi devi prendere il braccio, così, faccio giù, dai nooo, non mi devi prendere i borsi, il braccio, dai che amore non c'è più niente, che cosa? Dio mio allora non frega se vedi che tu sei finita, prendi le braccia prima aggiungati, aggiungati, io ancora ti posso prendere il braccio, quindi non mi puoi bloccare se li prendi poi io le braccia guarda tu me la ti sono la mente guarda sobbriaga dai 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 benissimo il video è terminato con la partecipazione di Chiara che il video è terminato spero vi sia piaciuto mettete un like se appunto vi è piaciuto condividete il video, passate sul canale di Chiara di cui vi lascio il link in descrizione e niente come vi ho detto all'inizio se volete anche il secondo episodio della Yaga Challenge meno dire così facciamo altre pose e niente vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao a tutti e a tutte non mi riusciti e vieni l'università vai la testa la testa deve nel mezzo guarda allora c'è è molto male vai 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 do' sei l'elastico mio l'ho passato e le punti fai dai che do' sei l'elastico mio dai che do' sei il lastico mio no dottor no no l'altro dai se non è vero si non facciamo più il video dai stai è caduto un lato dove? io ti sbaglio no non mi devo passare il video non mi dite il borsi il braccio